Sousa Il pallone scicca il tiro La parata è di gol Ancora una buona azione dell'Inter Rivediamo Sistema sul piede preferito Il pallone poi batte raso terra In due tempi La bella palla offerta A Bergkamp da questi a Sousa Al limite dell'area Sousa cerca spazio traccato da due avversari Senza colpo di tacco Sousa su di lui Poi percato da Yonk Sousa Attenzione c'è la possibilità Sousa Dentro per Montolancio Sul quale Orlando si fa trovare pronto Ancora Sousa Stupendo Il controllo a seguire Entra poi in velocità Sousa mantiene il possesso del pallone Girando su se stesso Vede Sousa E lo lancia millimetricamente Sousa Entra in area Sousa E stavolta Rivediamo Sousa E vabbè E stavolta proprio Non puoi si persi Siamo al A disturbare Parte il tiro Osservate Dove aveva piazzato il pallone Rubex Sousa E come sa